cari amiche e amici che ci seguite a casa dal vostro marco pareti per about umbria messaggi in rete quest'oggi da assisi in vicinanza di assisi ma non solo che stiamo con la dirigente del istituto comprensivo assisi 2 nonché preside dell'istituto di prestina chiara grassi ciao chiara buongiorno ciao buongiorno buongiorno a tutti allora in questa giornata stiamo trascorrendo dei periodi un po delicati per questa emergenza sanitaria e tu come dirigente scolastica hai dovuto in qualche modo portare in modo operativo le indicazioni ricevute come stai gestendo la situazione in queste due realtà importanti di assisi e di prestino allora diciamo che la sospensione delle attività didattiche dal 5 marzo diciamo ci ha messo ci ha fatto rendere conto di essere in una situazione davvero di vera emergenza e quindi ci siamo attivati subito con le segreterie con il corpo docente per cercare di garantire una sorta di normalità e di continuità didattica per i nostri alunni dai più grandi ai più piccoli perché diciamo gli istituti comprensivi hanno gli alunni che vanno dai 3 ai 14 anni quindi ci siamo presi cura dei più piccoli delle scuole dell'infanzia fino ad arrivare ai più grandi e soprattutto gli alunni di terza media che dovrebbero affrontare l'esame di stato anche se il ministro azzolina ci ha fatto capire che se non si rientrerà a scuola poi dovremmo dare una valutazione finale di consiglio a questi alunni comunque la gestione è stata abbastanza impegnativa ed è tuttora impegnativa diciamo che questo mese che abbiamo passato ci è stato servito per comunque cercare di raggiungere tutti gli alunni e questo è stato fatto perché ci sono stati dei problemi per quanto riguarda le numerosissime famiglie che per esempio non avevano la password del registro elettronico e quindi le prime due settimane le abbiamo passate con le segretarie a cercare di far raggiungere tutte le famiglie di farle inserire nel registro elettronico che è stata la prima nostra via di comunicazione e poi in questo mese abbiamo attivato la g suite for education una piattaforma in cui è possibile scambiarci materiali con gli alunni ma anche fare iniziare con le classi virtuali molto bene allora da questo punto di vista quindi sei in piena attività in questo momento dopo alcuni momenti per tarare questi sistemi e questi programmi ma siamo in piena attività qual è il riscontro che hai da parte dei ragazzi perché ovvio che tu hai un arco temporale dell'età degli studenti che vanno dal dall'infanzia tra virgolette da bambino piccolino ai ragazzi più grandi quindi ci sono delle risposte differenti dove forse i più grandi fanno da soli i più piccoli c'è bisogno del familiare accanto da questo punto di vista qual è stato il riscontro per fasce di età sia con gli studenti sia con i genitori nonché se ci sono delle difficoltà perché non è detto che tutti abbiano internet che tutti sappiano collegarsi o abbiano un computer esatto allora il riscontro diciamo il feedback degli alunni è stato senz'altro allora i più piccoli quando hanno iniziato perché anche la scuola delle scuole dell'infanzia hanno attivato le classi virtuali quindi quando hanno rivisto le maestre ci sono stati dei momenti di grande emozione dei pianti di gioia per rivedere i compagni nel rivedere le maestre e i bambini i ragazzi più grandi invece si sono diciamo attivati come dicevi tu subito anche da soli senza bisogno poi dell'aiuto dei genitori ecco quindi le scuole medie la scuola secondaria di primo grado sta diciamo procedendo sin dalle primissime settimane in maniera abbastanza buona perché tutti sono connessi tutti sono dentro le classi virtuali e fanno lezione mentre invece per quanto riguarda la scuola dell'infanzia la scuola primaria ovviamente abbiamo dovuto anche calendarizzare delle lezioni pomeridiane per permettere ai bambini di essere supportati ovviamente dalle proprie famiglie e di quindi usufruire delle classi virtuali anche di pomeriggio magari in tardo pomeriggio alle 6 quando i genitori che lavorano rientrano a casa e possono supportare i bambini per quanto riguarda le difficoltà riscontrate diciamo la principale problematica a Trestina è la connessione la connettività perché alcune zone di quel territorio nei piccoli paesi come morra san leo bastia sono hanno avuto da sempre problematiche di connessione e questo questo problema è stato risolto sta diciamo in via di risoluzione grazie al contributo all'aiuto del comune di città di castello e dei tecnici invece a santa maria più che problemi di connessione all'istituto comprensivo assisi 2 ci sono a seguito di un monitoraggio addirittura 150 famiglie senza dispositivi o comunque con gli alunni che hanno solo uno smartphone per fare il loro lavoro per cui abbiamo già predisposto la consegna di 42 tablet attraverso la protezione civile e un'altra quindicina verrà consegnata ecco spero in questa settimana prima della settimana di del insomma di pasqua delle vacanze pasquali beh ottimo questa cosa in modo che anche chi mancasse l'hardware il dispositivo informatico in questo modo si può equiparare e mettere in linea con tutti quanti ma c'è anche un fattore il corpo insegnanti ovviamente è abituato o è stato abituato da sempre a fare un certo tipo di modalità di lezione questa hai riscontrato delle differenze ho riscontrato delle modalità di preparazione anche la stessa lezione con la modalità attraverso il video come viene fatta quella classica tradizionale in aula guarda i miei docenti sono stati la più bella e grande rivelazione per me perché anche i docenti che che non erano assolutamente smart si sono da subito dati da fare e considera che la settimana successiva la sospensione delle attività didattiche ho fatto i consigli di classi in modalità telematica e quindi hanno subito tutti attivato le classi virtuali dopo che ovviamente avevamo raggiunto tutte le famiglie però veramente c'è in questo momento io sento e vivo un senso profondo di comunità educante che prima c'era ma che adesso è ancora più unita e forte di prima c'è una collaborazione tra i colleghi fantastica fantastica questa è la cosa più più bella e positiva che 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 ho diciamo come riscontro in questo primo mese di di sospensione di attività didattica beh sono situazioni queste nuove sfide davanti che hanno raccolto gli insegnanti e mi sembra che sei molto soddisfatta per quello che stanno facendo anche perché c'è un'altra c'è un'altra cosa cioè i ragazzi sono a casa come tutti e raccomandiamo a tutti di stare a casa insieme con i genitori e di non uscire se non per le condizioni previste per quello che la legge ci dice perché prima passiamo questo evento più stiamo a casa e meno e meno siamo sottoposti a contagi esterni anche silenti e prima torniamo alla normalità ci sta dando però delle grosse esperienze questo quindi tu queste indicazioni le darai tutti i giorni darei sempre e le stai dando in vari modi e quindi poi vedremo quando riprenderemo questa situazione normale ma non ci auguriamo il prima possibile ma ci sono con queste esperienze se tu dovessi raccontare a oggi questa nuova esperienza che hai raccolto di questa modalità differente ci sono anche dei valori che probabilmente erano stati dimenticati o si davano per scontati oggi la mancanza dell'insegnante o la presenza fisica dell'insegnante quanto è importante l'interazione quanto sono importanti interazioni tra i ragazzi quanto sono importanti interazioni tra genitori e scuola oggi è una modalità differente rispetto a qualche giorno fa esatto guarda per per assurdo ti posso dire che siamo molto più vicini adesso ai nostri ragazzi e alle famiglie di prima le famiglie stanno seguendo molto di più adesso il percorso scolastico dei propri figli li stanno supportando da questo punto di vista in maniera egregia eccellente e per i ragazzi e per i bambini ho capito questo che l'insegnante è veramente una figura fondamentale e è un punto di riferimento per loro in questo momento forte e sentirsi parte di una scuola di una comunità e soprattutto di una classe di quella classe fatta da quei compagni da quelle persone adulte che li possono seguire li possono guidare ecco questo diciamo per loro in questo momento credo che sia la cosa una delle cose più più fondamentali per superare questo queste difficoltà la difficoltà comunque di stare a casa sicuramente i nostri alunni ci danno dei bei esempi adesso noi abbiamo avviato un progetto che si chiama andrà tutto bene noi abbiamo un giornalino d'istituto online all'istituto comprensivo a CC2 e tutti i ragazzi i bambini stanno pubblicando i loro pensieri delle poesie dei disegni e stanno venendo fuori le emozioni e le sensazioni che forse prima non erano capaci di ascoltare loro stanno guardandosi dentro e stanno venendo fuori delle cose bellissime bellissime toccanti e ragazzi i bambini come sai ci stupiscono sempre assolutamente assolutamente allora complimenti per questa iniziativa perché la vicinanza dei genitori come dicevi tu in questo momento è fondamentale anche perché vedono le insegnanti come operano anche in diretta volendo perché stanno a casa e non come prima che era solo il riportato che è un po' differente quindi capiscono quanto amore mettono e passione gli insegnanti nel trasferire i concetti formativi ai loro alunni e ai loro studenti ma questa iniziativa che fai bellissima di questo giornalino ma non è l'unica che fai perché o che fate come scuola perché qualche giorno fa io ho parlato con Giacomo Piccioni di ideativamente sul discorso iniziative delle maschere da snorkeling che sono state trasformate con un progetto di un'azienda del nord attraverso la costruzione ingegneristica di una valvola e di un derivatore utili per la terapia intensiva per i pazienti nonché per gli operatori che praticamente sono in prima linea in questa emergenza sanitaria chi ci ascolta ci dirà ma cosa c'entra Chiara Grassi o la scuola, l'istituto con questa bellissima iniziativa di solidarietà e altruismo per tutti gli altri? Chiara Grassi c'entra e anche molto e anche l'istituto che lei dirige ma insieme anche a Silvia Mazzoni la dirigente dell'istituto comprensivo Torgiano Bettona perché Chiara Grassi ha dato tramite la scuola ha dato incomodato d'uso le stampanti 3D per poter realizzare insieme appunto a Silvia Mazzoni e a quella di ideativamente questi snodi e queste maschere quindi è così Chiara? esatto esatto sì qualche giorno fa mi ha contattato Giacomo Piccioni dell'azienda di Attivamente chiedendomi la disponibilità delle nostre stampanti 3D per questo bellissimo progetto io prima di sentire i docenti ho subito detto di sì praticamente bellissima avevo a disposizione quattro stampanti 3D ecco Giacomo è venuto pochissimi giorni dopo a prenderle i docenti ovviamente sono stati tutti informati poco dopo e crediamo veramente che il nostro istituto abbia fatto un gesto importante in questo momento perché i gesti devono essere anche concreti non bastano le parole assolutamente quindi veramente complimenti per quello che avete fatto per la partecipazione a questa iniziativa che ricordiamo è una filiera fatta da aziende fatta da una società importante la Declato che ha messo a disposizione le maschere ci sono più aziende Umbre che stanno collaborando a creare questo strumento che possa essere agganciato ai macchinari salvavita con questa maschera per gli ospedali Umbre e per gli operatori e dove c'è l'Università di Ingegneria di Perugia la protezione civile è nonché appunto l'istituto comprensivo Assisi 2 e quello di Torgiano il primo guidato da Chiara Grassi il secondo da Silvia Mazzoni Chiara, grazie di questa iniziativa che avete fatto insieme ad Ideattivamente con Giacomo Piccioni Allora su questa bella cosa di solidarietà su questa bella iniziativa vogliamo dare un saluto, un messaggio al corpo insegnanti e anche non solo al corpo insegnanti ma anche al personale appunto non docente nonché ai tuoi alunni e studenti e alle loro famiglie Sì, sì, assolutamente sì poi questa è la settimana santa domenica prossima festeggeremo la Pasqua proprio questa mattina ho fatto una circolare per la sospensione delle attività didattiche facendo degli auguri un po' particolari quest'anno a tutto il personale, alle famiglie e agli alunni e quindi ecco, diciamo in questo momento li ringrazio tantissimo tutti la mia segreteria, i miei docenti, le mie famiglie e soprattutto i miei bambini e i miei ragazzi che sono i nostri piccoli grandi eroi perché stanno con il loro lavoro scolastico e sempre con le loro emozioni anche i loro sorrisi, la loro voglia di fare ci stanno dando veramente un grande esempio io gli ricordo che stiamo lavorando per loro perché vorrei che presto quella campanella a scuola suonasse e le porte si aprissero e ci ritrovassimo tutti insieme dentro sarà veramente, ecco, noi stiamo lavorando pensando però a quello, pensando al momento in cui ci rivedremo e a quanto sarà bello rivederci quindi li abbraccio tutti virtualmente in attesa di quel momento assolutamente ti ringraziamo di questo bellissimo messaggio e sentiamo che questa campanella torni a suonare il prima possibile allora in questo momento cari ragazzi cari famiglie, cari genitori e cari tutti voi insegnanti e personali non docente nonché a Chiara Grasi dirigente di Assisi 2 di istituto comprensivo Assisi 2 preside della cittadina di Trestina della scuola di Trestina facciamo veramente un grande in bocca al lupo un buon lavoro con questo modo nuovo di lavorare grazie ancora per le iniziative di solidarietà che sono state fatte e a presto con da vostro Marco Pariti per Abbao Tumbia salutiamo Chiara Grassi a risentirci alla prima campanella che verrà fatta con i ragazzi la prima entrata è una promessa ciao a presto e soprattutto auguri perché sappiamo che oggi è un compleanno delle tue bellissime figlie ah sì grazie grazie ok grazie ciao Chiara allora grazie ancora e buon lavoro ciao a tutti e buona settimana santa grazie grazie grazie